Ringrazio che lei oggi presiede questo momento importante per la Camera dei Deputati, che non può ogni anno, lo scorso anno è stato alla Lega a mandare una lettera alla Presidenza chiedendo di ricordare anche in quest'Aula le drammatiche vicende vissute da nostri concittadini sul confine orientale, però le dico altrettanto che se ringrazio lei non ringrazio la Presidenza della Camera. Mi secca fare polemica in questo momento, veramente, perché io vengo da Trieste, però penso che questa sia il giornato del ricordo, non la giornata dell'ipocrisia. E quindi quando qui non è presente la Presidente della Camera, che giustamente viene ad ogni commemorazione su quello scragno per queste occasioni così importanti, penso che sia poco rispettoso verso il momento che andiamo a ricordare. Penso che sia poco rispettoso fare al Senato la commemorazione ufficiale alle 11 quando è convocata la Camera dei Diputati. Penso che sia irrispettoso verso una memoria che sì dovrebbe essere condivisa, ma non possono esserci memorie condivise di serie A e memorie condivise di serie B. E allora oggi noi siamo qui anche per rimarcare queste incongruenze, queste ingiustizie. Siamo qui per ricordare quelle persone, io ricordo per esempio la testimonianza di Graziano Udovisi nel 2006, rilasciata a famiglia cristiana, uno dei pochi sopravvissuti alle foibe, e ricordare quelle persone legate col filo di ferro fra di loro, buttate nelle foibe carsiche e lasciate morire se non erano più fortunate di morire prima con qualche proiettile dei comunisti titini. Noi siamo qui per ricordare ai nostri giovani, ai nostri figli, alle persone che purtroppo non hanno potuto studiare a scuola, per una scellerata omertà di questo Paese, di chi dirigeva il tempo questo Paese, i drammi che hanno vissuto le nostre famiglie, persone scomparse, uccise e torturate. E non esistono giustificazioni. A me dà fastidio sentire sì ma anche, mi dà fastidio sentire sì ma è una reazione. Su queste cose non esistono giustificazioni, non esistono quei sì ma anche, non esiste la giustificazione della reazione, esistono soltanto degli assassini. E io oggi sono ancora qui a fare un appello alla Presidenza della Repubblica perché venga tolta quella vergognosa onoreficenza al generale Tito perché un assassino non può essere cavaliere della Repubblica italiana. E le chiedo, Presidente, che oggi lei la ringrazio nuovamente che presiede quest'Aula, di farci portavoce dal nostro gruppo. Capisco e mi hanno detto, malgrado la lettera che noi abbiamo mandato lo scorso anno alla Presidenza della Repubblica, dei problemi e non problemi per toglierla. Ma io dico, io dico, non possono esserci impedimenti. È una questione di dignità e quando parliamo di ricordo penso che il primo ricordo dignitoso sia quella di togliere onoreficenza della Repubblica italiana a degli assassini. Grazie. Grazie. Grazie.